Becco la multa se calpesto la linea bianca in prossimità di un incrocio regolato da Tired. Il linguaggio è spartano, ma i pescaresi vogliono capire cosa combina l'amministrazione in masce e soprattutto non amano il burocratese né delle delibere né delle ordinanze che dir si voglia. L'ultima, tra l'altro, firmata dal dirigente della mobilità del comune di Pescara che andrebbe, e il condizionale è d'obbligo, a colmare una lacuna presente nei documenti emessi in precedenza. Sono tanti i cittadini che stanno seguendo l'onda e stanno presentando ricorso dopo che un'automobilista che ha ricevuto la sanzione per aver oltrepassato la linea di arresto in prossimità di un incrocio regolato da Tired con il Rosso ha avuto ragione davanti al giudice di pace. Ora, da un lato c'è la politica e le carelle interpretative di documenti che va chiarita. Dall'altro ci sono i cittadini che si chiedono come si devono comportare sulla striscia bianca. Intanto è bene ricordare i riferimenti del Codice della strada. L'articolo 146,2 e gli articoli 40, 41 e 43 che sono specifici sulla disciplina della segnaletica. Cosa costa spingersi sulla striscia o oltre la striscia e non fermarsi prima quando il semaforo diventa rosso? 42 euro, in alternativa 29,40 euro se la multa viene pagata entro i 5 giorni dalla notifica più le spese. Va aggiunto che se la violazione viene commessa nelle ore notturne, cioè dalle ore 22 fino alle 6 del mattino, può costare fino al 30% in più, senza dimenticare i due punti tolti dalla patente. Per ora esiste una sentenza del giudice di pace che, come riporta il quotidiano Il Centro, fa riferimento alla rilevazione di infrazioni che risultino limitate e circoscritte esclusivamente all'ipotesi di violazione dell'articolo 146,3. Tocca capire ora l'eventuale ricorso da parte dell'amministrazione, che potrebbe basarsi sul fatto che l'articolo 146 nella delibera di giunta verrebbe contemplato con tutti i suoi commi, non solo con il comma 3, e dunque le sanzioni rientrerebbero nella piena legittimità. Non si capisce poi però la necessità di emanare un'ordinanza dirigenziale che dovrebbe correggere lacune evidenziate dal giudice di pace se l'articolo in questione è stato citato senza indicazioni relative a un solo comma.